L'opera per un'opera di Dio. E' questo il sogno di Don Fabrizio Cristarella Orestano, che negli anni Ottanta lasciò i palchi dei massimi della lirica per diventare sacerdote. Nel 2007, chiamato a una nuova vocazione, ha fondato un nuovo ordine monastico a Ruviano, nella provincia di Caserta, sulla scia di San Benedetto e di Roberto Damolen, fondatore dei Cistercensi. Nel nome della tradizione monastica, baluardo della cultura e del sapere nei secoli bui, ripropone nel suo monastero il barbiere di Siviglia, il celebre melodramma di Rossini, su una piece precedente di Bomarsò, che auspicava la conciliazione tra i differenti ceti sociali del Settecento. Un segno per il mondo di oggi e per la vita del priore, nel nome di Dio. Ecco l'opera, certamente, io lo dico sempre, mi ha insegnato a sognare. E quando è arrivato il grande sogno dell'Evangelo, e questo ha avuto via più facile, in fondo la musica, l'opera per me sono state un po' come Giovanni Battista, precursore del Signore Gesù, perché mi hanno insegnato a sognare sogni incredibili. Quando poi è arrivato lui col sogno più incredibile che il Vangelo, per me è stato più facile crederci. Oggi la sua passione è continuata dal fratello Marco, il figaro della serata, e la messa in scena è un'occasione per un territorio, il casertano, spesso al centro della cronaca nera, ma ricco di talento, come spiegano il tenore Luigi Petroni e il basso Giovanni Guarino. È un'occasione per fare anche un tipo di musica che in queste zone, ma anche in altre zone d'Italia, non è così facilmente fruibile. E poi il Barbieri di Siriglia è una delle opere più conosciute del repertorio italiano, anche una delle più eseguite, una delle più divertenti. Ma è veramente una bella zona italiana, per bellezza di natura, tranquillità, aggiungo io cucina, e quindi evviva la provincia di Caserta.